Prendi la rincorsa, oh mo si, vedi? Così ho fatto fatica tre volte adesso adesso ti conviene andare giù lì nei rovi e poi la giri, se non ti arroti dentro nei rovi oh se qua non vi muovete quei due lì vanno a tagliare tutto il bosco cioè ma tanto dobbiamo scendere adesso facciamo tutte le discese e dopo arriviamo fuori strada dopo andare a casa quando abbiamo asfalto in fondo al fiume facciamo tutto il fiume venire su l'importante è fare il fiume alla fine perché andiamo giù fino in fondo alla stazione Asnago facciamo tutto il fiume a ricialire fino al parteggio dai che è già caduta tre volte oggi imbizzarisci, imbizzarisci, imbizzarisci orca bestia il parafago mi ha spaccato il conno mio parafago no te lo sono segnato dai su e dove l'avevi segnato eh? dove l'avevi già segnato? il parafago di 22 anni non si trovano più cazzo! te lo cerco io l'ha già aggiustato quattro volte che cazzo ho sentito proprio tac! mi tocca dargli un adesivo nuovo adesso però i pantaloni li ha fitturati eh oh cosa cazzo siete via? me ne andate o no? madonna dai che gliel'ho crepato che se non mi mandate via cazzo non mi amazza figaro dai non si può cazzo non si può accreppare il parafago così cazzo porca vacca dai figaro mi chiesto ci è esso di moto? mi chiesto ci è esso di moto? ma si può essere qua così? si che coraggio eh madonna ma di brutto siamo peggiorati via perchè rompo che il tuo eh stai lì ma che ti rompo che il tuo eh chi è che mi tiene? ti ho messo sotto la pedivella e non riuscivo più a accendere